ben trovati oggi vedremo un rimedio potente che la natura ci ha dato a disposizione l'aloe arborations rispetto alla famosa aloe vera a foglie più piccole e sottili ma più principi attivi concentrati nel suo gel proprio per questa proprietà l'aloe arborations è utile per depurare in profondità il corpo migliorare la funzionalità del fegato e in generale i processi digestivi è un rimedio in caso di acidità di stomaco e gastrite fortifica il sistema immunitario ha proprietà antiossidanti e antitumorali provate da studi scientifici per godere dei benefici dell'aloe arborations vedremo in questo video come fare in casa il preparato di padre romano zago un frate francescano che ha studiato l'aloe e la sua azione sul corpo umano la ricetta è presa dal libro di padre zago di cancro si può guarire queste le dosi indicative 350 grammi di foglie di alloe arborations di almeno cinque anni raccolte con poca luce per preservare i principi attivi 500 grammi di miele di api biologico che rende il preparato più amabile e in più veicola le sostanze curative 40 millilitri di un distillato cognac ma anche whisky o grappa vanno benissimo questo aiuta la conservazione del preparato e ad assorbire principi attivi iniziamo procurati gli ingredienti circa 350 grammi di foglie di aloe 500 grammi di miele biologico 40 millilitri di cognac pulisci le foglie di aloe con un panno umido rimuovi ora le spine in questo modo taglia l'aloe a pezzi e metti la nel frullatore aggiungi il miele e il cognac frulla per qualche minuto il preparato versa il preparato in un contenitore pulito se il contenitore non è scuro copilo con della carta un foglio di alluminio per proteggere la bevanda dalla luce che altrimenti distruggerebbe preziosi principi attivi conserva in frigo nel libro di padre zago si raccomanda un cucchiaio 30 minuti prima dei pasti principali per due settimane ecco pronto il preparato di aloe arborations e grazie a voi per l'attenzione 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 a voi per l'attenzione